8 persone denunciate e 2 milioni di euro sequestrati. Queste le cifre dell'attività di polizia giudiziaria denominata Cassaforte di Famiglia che ha portato la Guardia di Finanza di Pesero ad indagare per frode fiscali e riciclaggio due coniugi pesaresi imprenditori, tre commercialisti anconetani e uno pesarese, oltre a un consulente pesarese ed uno romano. Ai due coniugi infatti erano riconducibili sei fascicoli fallimentari su società operanti in diversi generi, soprattutto quelli del settore alimentare e quello immobiliare. I coniugi, in concorso con altri soggetti, avevano distratto 4 milioni di euro dalle sei società in fallimento. Investigazioni che risalgono addirittura 10 anni fa con movimentazioni finanziarie operate in favore di una società pesarese riconducibile ai coniugi, ma di fatto amministrata da prestanomi di Malta e San Marino. Un'indagine che ha avuto il suo culmine con l'arresto e la custodia in carcere del dominus indagato con sequestro preventivo di 700 mila euro comprensivi di tre immobili. Indagini che hanno poi portato a scoperchiare anche altre condotte penalmente rilevanti formalizzatisi nei sequestri prima di altri 700 mila euro equivalente al reato di riciclaggio e ad altri 500 mila euro divisi fra fabbricati, conti bancari e quote societarie.